io io mi chiamo me 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 mi chiamo Gino Palmiro Antonio c'ho sto nome pe 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 perché io po 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 poi no ecco ho detto bene poi c'ho pure che è lungo no che non mi viene mai bene quando lo dico se lo dico ma non lo dico è meglio che non lo dico ecco come si è riuscito e quindi e qui 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 qua qua qui qua qua qui qua qua no perché che 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 così me me sciò me sciò me scioglio me sciorgo no me sciorgio me sciorgio ecco 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 no perché capite questo problemine e il problemino insomma ecco 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 adesso adesso pare che pare che i da bene sta proseguendo bene no prosegue qui ecco ecco no perché io è scioglio perché io sto problema mi sono sbloccato da solo senza schiaffi che io parlo così mi scelto mi compensa la me ci hanno fatto mo ci 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 sono nato ecco, 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 no, mo, 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 devo da, devo da chiude perché se no ne fattiamo più, ecco, ciao, ciao.